Qual è la tua squadra? Qual è la tua squadra? Qual è la tua squadra? Io ho scelto nella mia squadra con questo club molti italiani credo che Viviana Schiavi Alia Guagni Valentina Giacinti sono molti ma abbiamo molti ma l'importante è che questi giocatori potrebbero giocare con il mio stile voglio divertirsi con il nostro stile perché è molto importante che la mia squadra possa praticare molti passi prima della scuola e dobbiamo giocare con un corto pass il secondo importante è vincere questa liga ma vedo che molto difficile per esempio l'Emerald City Issaquah e il primo gioco contro Spokane sarà molto difficile perché sono molto importante in questa liga è il capitale della squadra Alessandra vuoi dire qualcosa ai nostri spettatori o come io voglio invitare tutti i nostri spettatori a vincere tutti i nostri spettatori a vincere tutti i nostri spettatori so venite e chiamate per noi grazie